Buon pomeriggio e benvenuti al nostro TG Giorno. Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato ritrovato poco distante dai binari della ferrovia tra Arezzo e Firenze, non lontano da Pieve a Maiano. L'ordigno è simile a quello che stiamo vedendo. È stato scoperto nei giorni scorsi. Stamani gli operatori specializzati erano sul posto per compiere l'intervento di rimozione. Si tratta di una bomba a mano recuperata in una zona boschiva a circa 30 metri dalla linea ferroviaria. La zona durante il secondo conflitto bellico fu oggetto di vari bombardamenti. La politica adesso. Nicola Benini è al centro della cherel politica di questi giorni a Bucine. Il sindaco sciente rilancia la sua proposta politica. Nelle colline di Bucine, in mezzo ai suoi cavalli e proprietario tra l'altro della figlia di Varenne, Nicola Benini ritrova la serenità per parlare del caso politico che lo ha visto protagonista in queste ore. Il suo partito, il PD, lo ha scaricato, ma il sindaco sciente di Bucine non ne vuole sapere di uscire dalla scena. Di mancanza di motivi importanti e fondamentali mi è sembrata una cosa non giusta anche nei miei confronti. Bene o male, ma non solo io, la mia giunta e il gruppo consigliare abbiamo fatto una legislatura molto difficile. Abbiamo avuto due anni con il Covid, veramente a Bucine con l'RSA, abbiamo passato veramente un periodo difficilissimo. Poi c'è stato il CHEU con quel problema di quei due o tre siti potenzialmente inquinati sui quali stiamo lavorando e sembra che stiamo imboccando una strada per la bonifica. È stata una legislatura difficile, l'aumento dei costi dell'energia, i problemi sugli appalti pubblici per via dell'aumento dei costi. Ma lei però ha capito che non aveva più il gradimento di una parte importante del suo partito. No, una parte del partito mi ha manifestato il loro non gradimento. Il rapporto con il PD dunque si è deteriorato cammin facendo. Io ne ho parlato con il mio gruppo, ne abbiamo parlato insieme e abbiamo ritenuto che comunque c'erano le condizioni per proporsi come gruppo uscente, però per riproporsi per la prossima legislatura. E a questo punto lo faremo come lista civica. Oltre 9 chilometri di tubazioni porteranno entro il 2025 l'acqua della diga di Montedoglio nella zona industriale di Cesa e a Monte San Savino. L'opera realizzata da nuove acque per un importo di oltre 2 milioni di euro si avvale anche di finanziamenti PNRR. Presidente, il PNRR aiuta anche nuove acque in questo caso con questo bel progetto che porta l'acqua di Montedoglio in Val di Chiara? Il PNRR aiuta la nazione, aiuta i cittadini e in questo caso noi facciamo la parte operativa. Questo è un progetto che parte da molto lontano, però ci tengo a dirlo. Fino dal 2017 l'azienda aveva previsto attraverso il proprio ufficio tecnico, attraverso alcuni tecnici molto illuminati, di lasciare una presa d'acqua dalla condotta che l'entirrigo da Montedoglio aveva portato in Val di Chiara. Questo ha potuto consentire lo sviluppo attraverso la nostra rete di questa adduzione, fino al potabilizzatore di scesa, poi il sollevamento di Val di Corte e ora Monte San Savino. Per noi è un ottimo traguardo perché ovviamente non andiamo a fare solo per i cittadini e quindi a poter far sì che i cittadini abbiano l'acqua, ma anche le imprese. Come lei sa, è accesa, è successa, io ho tutta la zona industriale con tutte le imprese che ne faranno uso. L'acqua che arriva da Montedoglio ha delle caratteristiche superiori a quelle del nostro comune, è meno dura, non ha durezza temporanea, quindi ci permette anche di mantenere meglio le nostre tubature e diciamo un sollievo per l'estate che nei nostri posti le acque purtroppo sono in difficoltà. Oggi presentiamo anche successivi stracci di questo lavoro che sono già in realizzazione e che permetteranno entro il 2025 di avere tutto il comune servito, quindi di mettere in sicurezza l'approvvigionamento della Valdichiana sia dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Un altro argomento di stretta attualità è legato alla protesta degli agricoltori. Dalla revisione della PAC agli ungulati dagli sgravi contributivi per le nuove imprese all'esonero IRPEF, CIA condivide le posizioni degli agricoltori indipendenti in proteste e ricorda di aver richiesto al governo di intervenire su questi punti nella finanziaria. È arrivata anche in Italia la protesta degli agricoltori ed è anche qua vicino al casello Valdichiana. Qual è la posizione della CIA rispetto a questa protesta? È una protesta assolutamente legittima questa, una protesta che CIA del resto ha portato anche in piazza, a Roma. Anche qui da Arezzo siamo partiti con un pullman con oltre 50 persone per una protesta che proprio CIA ha fatto a Roma addirittura il 26 ottobre, quindi si parla di qualche mese fa. Purtroppo i temi su cui puntare l'attenzione sono veramente tanti perché in questo momento il mondo agricolo è davvero in sofferenza, forse come non mai. Il 2023 è stato un anno eccezionalmente negativo per il mondo agricolo, sia per gli elevati costi di produzione, sia per la crisi climatica e anche gli eventi calamitosi che purtroppo hanno toccato fortemente le produzioni. Per questo ci aspettavamo un'attenzione anche particolare da tutti i livelli istituzionali, a partire da regioni, governi e Europa. Capiamo quindi in questo momento la protesta che i nostri colleghi stanno portando avanti proprio qui in Val di Chiana. Tra tanti temi è quello di una immediata revisione della PAC, una PAC che noi chiediamo con forza di rivedere perché non vogliamo assolutamente vedere contrapposto il mondo agricolo al mondo dell'ambiente. Un altro dei temi che resta di stretta attualità è quello della localizzazione della futura stazione sulla linea ad alta velocità. Interviene anche Lega Ambiente nel dibattito su Medio Etruria. Non siamo contrari all'alta velocità, affermano, ma non vogliamo una cattedrale nel deserto a Creti di Cortona. Per Lega Ambiente la scelta di Creti per la stazione per l'alta velocità è dispendiosa, l'opera è inutile e l'impatto ambientale per il consumo di suolo è troppo forte. Assolutamente non è un no all'alta velocità, per noi la rete ferroviaria è centrale e l'accesso dei territori di Siena, Arezzo e anche dell'Umbria alla rete è fondamentale. Non ci convince assolutamente la scelta di Creti perché è una cattedrale nel deserto, perché non ha un elemento fondamentale previsto anche dal regolamento europeo 1315 del 2013, cioè l'interconnessione ferro su ferro. Non ci si arriva, non si riparte in treno semplicemente, ma sarebbe servita solamente da mezzi su gomma, quindi esclusivamente da autobus autoprivate, quindi con conseguente inquinamento, perché c'è un consumo di suolo molto importante in un'area rurale, tra l'altro a vocazione alluvionale, quindi con un rischio, una pericolosità diciamo idraulica medio-alta, perché appunto il consumo di suolo è previsto di 20 ettari almeno, ma poi ci sarebbero da realizzare parcheggi, reti viari di interconnessione, quindi è un investimento anche costoso, 100 milioni. Le Gambiente Toscana-Umbria e i circoli sul territorio puntano invece al potenziamento del trasporto pubblico regionale, con la riqualificazione delle stazioni di Arezzo e di Chiusi. Noi proponiamo invece di andare su un'opzione molto meno costosa, che è il potenziamento delle attuali stazioni di Arezzo e di Chiusi, che sono già adeguate appunto alle fermate di treni in alta velocità, ma che con un potenziamento, con un investimento sul sedime, si possono permettere di avere più fermate dell'alta velocità, di servire meglio i territori, e anche, si parla di una spesa che è circa un terzo rispetto ai 100 milioni previsti, andare a potenziare e a riqualificare la rete regionale, che ne ha un gran bisogno. Seconda edizione di Arezzo Science Lab, organizzato da Biblioteca, Comune di Arezzo e Feltrinelli, con la collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo. Tra i big di questa edizione, il filosofo Massimo Cacciari e lo scrittore Aldo Cazzullo. Una nuova serie di importanti appuntamenti con nomi di grande spicco, Arezzo Science Lab 2, organizzato dalla Biblioteca, insieme alla Feltrinelli e alla Fondazione. Sì, i prossimi autori saranno Cacciari e Cazzullo. Cacciari arriva, diciamo così, alla conclusione di un percorso filosofico sulla metafisica. Cazzullo invece ci spiega come l'eredità del mondo romano sia tutt'oggi in vigore, viva, non solo nel patrimonio storico italiano, ma nel patrimonio storico mondiale. Abbiamo svelato anche uno degli ultimi ospiti, che appunto sarà Silvia Bencivelli, che è una importantissima divulgatrice scientifica e porterà uno spettacolo sulla storia della scienza. Andrea Rinaldo ha vinto il Water Prize, che è conferito dall'Accademia di Svezia. Michele Punturo ci porterà una lezione sulle onde gravitazionali e finiremo con Paolo Ferri, che ha guidato varie missioni da capo progetto per l'Agenzia Spaziale Europea, in particolare sull'esplorazione di Marte. Chiaramente quando la Fondazione, insieme al Comune, soprattutto, mette a disposizione i propri spazi, chiaramente anche per organizzazioni presenti ad Areccio e che da anni hanno fatto tante attività, è più facile organizzare questi eventi. Sono eventi di scala nazionale, perché basta vedere il cartellone, insomma, non c'è bisogno che io mi esponga, anche che non sarei all'altezza di farlo. Arezzo è la città anche della cultura, anche della scienza, e siamo già alla seconda edizione, non è nemmeno una novità ormai, è una bella realtà consolidata. Lutto nella politica retina ci ha lasciato all'età di 88 anni Pierferruccio Romualdi, per anni direttore provinciale della Coldiretti ed esponente di primo piano della democrazia cristiana, di cui fu anche candidato alle regionali del 1985. Mancò l'elezione per una manciata di voti. È stato consigliere provinciale e membro della direzione provinciale dello scudo crociato. Originario di Basciu, nelle Marche Romualdi, si era trasferito ad Arezzo per essere un punto di riferimento del mondo agricolo. Grande appassionato di giostra del Saracino, è stato anche araldo e membro della magistratura. Persona pacata, educata e gentile, venne colpito da un grave lutto per la morte del figlio Filippo, noto regista della RAI. Da qualche anno si era allontanato dalla scena pubblica, ma non perdeva una battuta di quello che accadeva e quando poteva faceva sempre sentire la sua opinione. I funerali domani mattina nella chiesa del Bagnoro. Cordoglio è stato espresso dal presidente della provincia Polcri, che ha ricordato l'impegno di Romualdi sui banchi in Sala dei Grandi. Alla famiglia, le nostre condoglianze. Questa sera, subito dopo il Tg delle 20.30, potrete assistere a Newsline dentro la notizia, nel quale si parla dell'omaggio del Comune di Monterchi al comandante della locale stazione dei Carabinieri, che lascia l'incarico per raggiunti limiti di età. Farà seguito 9.10, Barbara Perissi ha visitato il cantiere per il restauro delle opere di Piero della Francesca. La serata proseguirà poi con l'ultima puntata di Quattro Vallate, programma condotto da Riccardo Ciccarelli, e al termine sportivamente, settimanale a cura di Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. È tutto per questa edizione del nostro Tg Giorno. Grazie quindi della cortesi e attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie per la visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi. Grazie per la visione e buon ascolto insieme.